Un verdetto che fa tremare il mondo delle imprese e di internet. La Corte di Giustizia Europea ha bocciato l'accordo per il trasferimento dei dati tra l'Europa e gli Stati Uniti, definito safe harbor. I magistrati hanno accolto il ricorso presentato da un austriaco di 27 anni, Max Schrems. Per anni, ha detto, la Commissione Europea è rimasta a guardare. Negli ultimi due o tre anni questo sistema avrebbe potuto essere riformato, ma si rimandava sempre. Ora la sentenza dice che ci sono molti punti da rivedere. Questo giovane giurista si era opposto al trasferimento dei dati personali su Facebook verso gli Stati Uniti, ricordando gli abusi commessi dall'intelligenza americana svelati dall'affare Snowden. A Strasburgo, il vicepresidente della Commissione Europea, Franz Timmermans, ha promesso in tempi rapidi nuove linee guida per le autorità garanti dei dati su come trasferire i dati richiesti dagli Stati Uniti alla luce di questa sentenza per dare protezione ai cittadini e la certezza della legge alle imprese. L'accordo Safe Harbor è stato siglato tra la Commissione Europea e gli Stati Uniti 15 anni fa ed è utilizzato da oltre 4.000 aziende, tra cui Facebook, Amazon e Google. Per i magistrati europei non è garantita una protezione sufficiente dei dati. Dure critiche della sentenza sono giunte dalla Confindustria europea, secondo cui un'interruzione del flusso trasnazionale di dati potrebbe seriamente colpire commercio tra Europa e Stati Uniti. Il rischio è naturalmente che i dati siano conservati solo in Europa e che mettiamo una sorta di barriera intorno all'internet e a cloud, ammette l'eurodeputata liberale Sophie Intveld. Non lo vogliamo. Vogliamo innovazione e web, ma questo può esserci solo se sappiamo che i nostri dati sono al sicuro. Facebook ha negato di aver commesso abusi ed ha chiesto l'urgente revisione della norma per il trasferimento legale di dati. Grazie. Grazie.